Chiedo semplicemente l'alloggio che mi spetta, che voglio e lo pretendo. Non deve passare molto tempo perché io sono sotto controllo dal psichiatra, il psichiatra mi tiene calma con i farmaci perché altrimenti io sono una suicida, è facile che mi ammazzo. Sono ormai dieci anni che la signora Giovanna Ambrosino combatte per vedere riconosciuti i propri diritti e parliamo del diritto primario, quello ad avere una casa decente. Insieme ai suoi due figli, uno di 25 anni con diversi problemi e una ragazzina di 13, Giovanna vive al quarto piano di una palazzina di proprietà dell'Istituto Autonome Case Popolari ad Altavilla Irpina, in una zona che per il degrado nella quale versa ricorda le grandi periferie urbane delle metropoli ed invece siamo in un paesino dell'Irpinia con poche migliaia di abitanti. La sua casa è un buco di 35 metri quadri. Il figlio, Marco, è costretto a dormire in cucina dove il divano di notte si trasforma in un letto. Una strettoia porta prima al bagno, poi ad una cameretta dove la signora dorme insieme alla figlia. È una casa dove non esistono spazi privati. La signora ci mise piede per la prima volta nel 2005. le dissero che la sistemazione era temporanea in attesa che fossero disponibili appartamenti idonei. Le case poi sono arrivate ma per ben due volte le abitazioni che sulla carta erano di questa famiglia sono state occupate abusivamente. Da allora Giovanna ha iniziato una lotta solitaria che non si è ancora conclusa. Una lotta contro le ACP ma anche contro il comune che ha il compito di far rispettare le graduatorie e di assegnare le case. Carte alla mano ripercorre tutta la vicenda, dalle sentenze che danno ragione alle sue recriminazioni fino ad ordinanze di sgombero degli abusivi che non sono mai state eseguite. Una lotta solitaria che combatte innanzitutto per i suoi figli. Il marito della signora non c'è più. Giovanna racconta che se n'è andato di casa quando Maria Lourdes aveva appena nove mesi. Non percepiscono sussidi di alcun genere e gli assegni di mantenimento. Poca cosa arrivano ad intermittenza. Io sono disoccupata. Se trovo qualche oretta da fare durante la settimana la faccio perché altrimenti io mangio da mamma che ha quasi 82 anni e è sofferente. Ho perso mia sorella e mio cognato in due anni e che ci stavano vicino. Purtroppo sono venuti a mancare e la cosa è triste, molto triste. E c'è mamma che ci fa mangiare delle sorelle che ci aiutano un po' a pagare delle bollette, il metano, la luce, l'acqua.